Un uomo di Caltanissetta è stato arrestato dalla Polizia di Stato in quanto avrebbe dato fuoco all'appartamento per vendetta. La squadra mobile ha eseguito nel corso delle indagini preliminari una misura cautelare personale emessa su richiesta della Procura della Repubblica di Caltanissetta dal giudice per le indagini preliminari. L'indagato è stato condotto in carcere in quanto sospettato di aver appiccato l'incendio di un appartamento del Centro Storico Nisseno, reato aggravato dal fatto di averlo commesso per futili motivi. Nel marzo scorso la Polizia di Stato e i vigili del fuoco sono intervenuti a seguito dell'incendio divampato in un appartamento. Il fuoco, oltre ad aver messo in serio pericolo l'incolumità dell'intero stabile abitato da altre persone, ha fatto deflagrare i vetri provocando ulteriori danni alle vetture parcheggiate davanti l'immobile. Le indagini, avviate immediatamente dalla squadra mobile, hanno permesso di ricostruire la probabile dinamica degli eventi accaduti. Secondo una prima ricostruzione, l'indagato, a seguito del rifiuto del proprietario di poter prendere in locazione l'appartamento in questione, per vendicarsi avrebbe appiccato l'incendio mettendo in pericolo la pubblica incolumità. La ricostruzione della Polizia di Stato, avvenuta grazie ad alcune testimonianze e dall'esame delle immagini acquisite dagli impianti di videosorveglianza, ha permesso alla Procura della Repubblica di richiedere e ottenere la misura cautelare della custodia in carcere. Il giudice per le indagini preliminari, valutati positivamente i gravi indizi di colpevolezza a carico del presunto autore del reato, ha disposto nella fase delle indagini preliminari la misura cautelare che è stata prontamente seguita dalla squadra mobile della Polizia di Stato.